Siamo tornati alla seconda timbre intervista, oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Andrea Zafferani che ha appena terminato in aprile di quest'anno la sua carica da capitano reggente che ha ricevuto a ottobre 2010 ecco ci presentiamo, ciao Andrea, tutto bene? Adesso gli farò qualche domanda, spero che sia di vostro gradimento ecco, prima di tutto hai appena terminato la tua esperienza da capitano reggente e vorremmo sapere un pochino le tue sensazioni, come l'hai vissuta, i momenti positivi, quelli negativi, raccontaci un po' Sì, abbiamo avuto un semestre sicuramente pieno, è curioso perché i primi due mesi sostanzialmente sono di assestamento poi si inizia un grosso lavoro perché si vanno a concretizzare una serie di iniziative che si preparano oppure perché ci sono una serie di impegni che non decidi ma che sono fissati in particolare dicembre è stato un mese molto pesante, poi tra gennaio e febbraio abbiamo cercato di mettere in piedi due iniziative la visita nei castelli e la visita nelle aziende per far sentire più possibile la vicinanza della massima istituzione dello Stato a cittadini e alle imprese che in questo momento stanno soffrendo questo è in sintesi il lavoro ma è una sintesi rapidissima, ci sarebbero mille cose da raccontare, mille sensazioni quello che si può sentire, quello che si può dire come sintesi è che questo ruolo ti dà la grandissima soddisfazione di sapere, di rappresentare l'istituzione più amata dai sammarinesi indubbiamente te ne accorgi o qualunque volta ti capita di andare in pubblico quanto i sammarinesi tengano a questo istituto e quanto in parallelo si alta la responsabilità di condurre un semestre il più possibile positivo insomma soddisfacendo le attese e quindi questo orgoglio è quello che rimane poi ovviamente ci sono dei problemi, ci sono delle piccole limitazioni della vita quotidiana che sono anche mitologiche talvolta insomma sono sempre, la gente chiede che cosa succede nella vita quotidiana però insomma sono piccole limitazioni che non scalfiscono minimamente quello che è la soddisfazione del ruolo quindi noi abbiamo cercato, io e il mio collega abbiamo cercato di interpretarlo cercando di essere il più possibile in mezzo alla gente, in mezzo alle varie espressioni che San Marino ha le varie espressioni di cui gode questo paese speriamo di avercela fatta, abbiamo cercato di avere una regenza abbastanza presente perché in questo momento insomma crediamo che i cittadini avessero anche bisogno di sentire la vicinanza delle istituzioni ecco hai parlato di crisi, hai parlato, vado subito sul tasto dolente così ce lo caviamo in questo momento di crisi, secondo te come si deve comportare il giovane, come deve vedere perché comunque io vedo nei miei coetanei un pochino di delusione, non parlo proprio di delusione comunque un pochino di dire qua siamo in crisi, cosa facciamo, qua il buco c'è perché lo sappiamo l'informazione comunque la leggiamo e sappiamo comunque che siamo in crisi e abbiamo poche prospettive per il futuro secondo te il giovane come deve affrontare in questo momento quello che sta accadendo a San Marino? guarda io ci hanno fatto, quando a marzo le scuole sono venute in udienza a Palazzo dalla Regenza in particolare ovviamente le quinte superiori che sono quelle che più sentono, iniziano insomma a interrogarsi sul loro futuro ci hanno fatto quasi tutti questa domanda la risposta che spesso io almeno cercavo di dare è quella di far capire a loro prima di tutto che ancora devono iniziare il percorso universitario ma che lo intraprenderanno presto che i giovani oggi, forse a differenza dei nostri padri, hanno una preparazione tecnica perché studiano materie anche tecniche, penso all'ingegneria piuttosto che alle materie ambientali piuttosto che tutta una serie di filoni dove oggi servono soluzioni nuove hanno un bagaglio tecnico e un bagaglio umano perché fanno esperienze perché si confrontano con altre culture, con altre persone che vengono anche da fuori oggi si viaggia molto di più per cui un bagaglio tecnico, un bagaglio umano che potrebbero mettere a disposizione del paese esprimendo idee, facendo proposte e soprattutto, come posso dire oggi i giovani hanno delle conoscenze che i nostri grandi non avevano sanno trovare soluzioni ai problemi perché conoscono i problemi anche dal punto di vista tecnico e per me è un peccato quando vedo che alla fine la partecipazione dei giovani nella vita politica è un po' scarsa o peggio quando c'è è tendente solo alla critica che è comprensibile ma non basta secondo me. Io capisco tutto perché la politica ha dato brutti esempi il paese è andato a finire in una situazione difficile perché per anni abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, che sappiamo tutti per oggi in poco tempo è cambiato radicalmente lo scenario per San Marino oggi tutti, soprattutto i politici che hanno gestito il paese negli anni passati e che si sono interfacciati con tutta un'altra realtà bisogna trovare, bisogna fare un cambiamento culturale ma anche come proprio cose che si fanno, bisogna trovare soluzioni a problemi nuovi ci vogliono proprio idee, io sono convinto che i giovani forse siano la parte della società che ne ha di più per questi motivi che dicevo prima e sarebbe bello che le mettessero a disposizione in tutte le forme possibili facendo politica nei partiti, facendo politica nelle associazioni facendo politica al bar, facendo quello che si può fare ma a me le mettessero a disposizione, facessero proposte io se sentissi nuove proposte dai giovani in modo coeso che dicano, oh questo paese noi vogliamo che vada qui e faremo di tutto, tutti assieme per cercare di portarlo qui con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione ecco, questo se accadesse sarebbe una bella rinascita per questo paese ecco, hai parlato infatti di questo problema probabilmente oggi il giovane quando vede la politica quando approccia la politica secondo noi vedendo quello che hanno fatto precedentemente comunque i politici che si sono sospettati a San Marino comunque dice un pochino no, io in queste cose non ci voglio entrare ecco, però comunque abbiamo visto che c'è una San Marino partecipante all'ultimo referendum che è appena avvenuto ho visto comunque i dati, ha votato un sacco di cittadini e soprattutto un sacco di giovani dai 18 ai 25 anni quindi non è vero insomma sfatiamo questo tabù che i giovani non vedono niente i giovani vedono e comunque intervengono è questo, la politica comunque i giovani la vivono è questo che vorremmo far passare esattamente e parlando di altro, adesso il giovane siamo tutti un gruppo posso fare una postilla, una parentesi su questo è stato, io ovviamente non mi sono potuto esprimere ero ancora capitano reggente è stato veramente una novità la partecipazione che si è scatenata tramite social network è stata una bellissima cosa da lì passa una buona parte del futuro politico di San Marino ma anche di altre realtà ovviamente che è un potentissimo strumento quelli che lo denigrano non hanno capito cosa si sta muovendo scusami la... no no hai ragione anche noi infatti crediamo con questa timbro intervista che fare informazione sui social network e su internet sia una nuova frontiera diciamo ecco l'ultima domanda ti volevamo chiedere adesso noi siamo un gruppo di universitari essenzialmente l'associazione culturale e il timbro e siamo comunque giovani che vorremmo comunque approcciarci anche con l'estero vorremmo approcciarci con gli stati europei ecco Europa tabù a San Marino questa possibilità di entrare nell'Unione Europea o possibilità qual è il tuo parere? tabù sicuramente no nel senso che sono finiti i tempi in cui pensavamo a San Marino come uno stato terzo che faceva il suo comodo sostanzialmente come qualcuno ha pensato per anni e invece si stanno insomma si stiamo rendendo conto che l'Europa comunque è necessariamente una strada che dovremmo prendere quello che può cambiare sono le forme allora quello che io mi sento di dire è questo è chiaro che verso l'Europa dovremmo andare ma è anche chiaro che abbiamo bisogno presto di un'integrazione europea maggiore io come in tante cose della politica su tanti temi ho spesso un approccio pragmatico ce l'ho anche su questo dico troviamo la forma visto che la trattativa si fa in due San Marino ed Europa dove facciamo prima a ottenere un'integrazione maggiore rispetto alla situazione attuale perché ne abbiamo bisogno e poi nulla vieta che il percorso prosegua quindi a me personalmente l'idea di dire aderiamo all'Europa e basta anche se magari la controparte non vede bene questa soluzione oppure ci vuole più tempo rispetto a un'altra soluzione mi sembra una come dire una prospettiva non ottimale come posso dire mi sembra che sia un approccio ideologico non pragmatico anche se lo capisco nel senso che l'Europa probabilmente l'adesione piena ci darebbe una situazione di vantaggio maggiore ma se non ce la facciamo subito ad arrivare lì se non è quella la soluzione che riusciamo a ottenere subito cosa facciamo? Niente ci sono secondo me degli approcci intermedi che varrebbe la pena esplorare tra l'altro finisco l'Europa in questo momento sembra anche abbastanza disponibile a trovare delle forme di integrazione dove vengano riconosciuti una serie di diritti ai piccoli stati probabilmente anche quello di potersi muovere poter lavorare in giro per l'Europa senza magari tutti gli obblighi che sono connessi all'essere membri a pieno titolo sono obblighi anche umani cioè richiesta una classe dirigente che probabilmente non abbiamo nemmeno quindi quello che mi sento di dire è che io non ho nessun tabù sono per un approccio pragmatico cioè cercare di andare per gradi facendo tutte le cose che possiamo fare oggi domani e dopo domani fino ad arrivare ad un'integrazione piena che è l'obiettivo probabilmente che dovremmo avere ok guarda io ti ringrazio per la sincerità per la disponibilità perché comunque hai risposto egregiamente secondo me a tutte le domande che ti abbiamo fatto penso che comunque sia per i giovani questa intervista importante perché comunque ci sono delle idee che i giovani non sanno possono ottenerle io ringrazio tutti dell'attenzione ci vediamo alla prossima Timbro Intervista ciao a tutti e viva il timbro ciao